il legamento crociato anteriore stai chiedendoti cosa sia meglio fare operarsi subito aspettare non operarsi proprio hai un figlio o una figlia giovane 13 14 15 16 anni si sono rotte il legamento crociato e tu da genitore devi fare una scelta importante e difficile perfetto allora c'è il video giusto siamo qui appunto per darti gli strumenti per poter effettuare una scelta informata al migliore delle possibilità sono i 5 buoni motivi per non operarsi al legamento crociato anteriore ciao a tutti io sono Gianluca Italiano e sono Mattia Lisazza i migliori fisioterapisti del mondo e in questo secondo i miei figli scusate me lo dimentico ogni tanto anche se ormai il mio ego è così grande che e oggi andiamo a parlare ancora di un argomento un po' diciamo contraddittorio ma che presto verrà invece sfatato dai continui studi che ogni giorno escono fuori e che ci dicono come ci sono tanti tanti tante situazioni tanti tanti pazienti che possono farcela senza operarsi ma che ancora invece hanno come proposta unica proposta terapeutica quella dell'operazione giusto Mattia molto bene Gianluca hanno come unica proposta terapeutica infatti ci tengo a mettere un disclaimer se avessimo un'abilità di editing per farlo adesso appaierrebbe la scritta disclaimer tra le mani ci pensiamo altrimenti immaginatela questo video non vuole sostituirsi all'opinione di alcun ortopedico è semplicemente dare alla popolazione gli strumenti per poter fare una scelta informale poter discutere poi con l'opinione di vari professionisti lasciare appunto la scelta migliore l'approccio terapeutico migliore che va valutato comunque caso per caso un'altra cosa che ci tengo a specificare è che l'aneddoto fa sempre piacere è bello che si condivinano aneddoti ma un aneddoto rimane un aneddoto che tuo zio se non si operava il crociato non sarebbe mai tornato a giocare a basket è un aneddoto che tu ti sei operato il crociato perché si e sei tornato più forte di del piero è un aneddoto quindi siamo qui appunto per prendere l'evidenza scientifica che abbiamo disponibile dal momento e dare informazioni e aprire una conversazione un dibattito su l'eggetto crociato anteriore operarsi o meno noi dal nostro punto di vista come una fisio quindi andiamo a dare 5 buoni motivi per ripensare alla scelta dell'operazione del crociato anteriore diciamo molto più in anteprima così i nostri telespettatori scusate hanno subito le idee chiare ci sono situazioni in cui può essere necessario operarsi ma ce ne sono tante altre cui non è necessario oggi la scienza ci dà un protocollo che è abbastanza chiaro facciamo 3-5 mesi di fisioterapia fatta bene dopo i quali tu puoi scegliere serenamente cosa fare e senza né impianti e né rimorsi 3-5 mesi di fisioterapia dai il massimo fai di tutto dopo 3-5 mesi ancora problemi ancora cedevolezza ancora dolori ancora tutto quello che a te non piace il chirurgo è sempre lì che ti aspetta ok mi sembra onesto al contrario potrebbe succedere non può succedere se scegli di fare prima la chirurgia ti devi becare tutte le conseguenze senza poter tornare indietro ok per una san intellettuale possiamo tutti star d'accordo che forse evidentemente questo è un approccio più sensato i 5 motivi quali sono partiamo dal numero 1 ora l'hai già detto tu Gianluca nella tua introduzione appunto che è in realtà il numero 1 che mi ha messo qui ma 3-5 mesi di fisioterapia ad alta intensità con esercizi di alto livello possono dare gli stessi risultati sul lungo periodo della terapia chirurgica appunto di ricostruzione senza però tutti gli effetti collaterali che una chirurgia si porta dietro così grazie a te un'operativa è molto libera e molto che non devi fare i sovraccaricarmi devi fare i cambi del salone al contrario giungo gli squat 50-100 kg 150 kg tutto quello che puoi fare sulle tue spallucce ce lo metti su e questo per me è un vincere facile lo dico subito perché perché non farli se tanto poi l'alternativa è operarsi se tanto poi ti devi operare e allora giochiamocela giochiamocela sta sfida fallo adesso fai adesso i cambi di direzione se ti va male ti opera tanto già vuole rivolperarti non ti sembra onesto onestissimo però appunto dici bene te fisioterapia per davvero con 3 mesi di mobilizzazioni e lacr stai parlando di fisioterapia i traumi lo doveva facciamo lo fanno ancora in ospedale no chiaro c'è davvero un paziente un'ora di trattamento e viene a lui a fare un'ora di kinetel tanto la regione è in borsa se ti saluto chiudo a parentesi esatto è diventato un po' legge fisioterapia è fatta bene quindi mi collego subito ad un altro punto Gianluca ci sono tanti professionisti che tornano all'attività appunto professionistica nell'emba nel football americano soprattutto sport in cui c'è di salto di pivoting di rotazione di scontro anche fisico tornano all'attività professionistica senza l'operazione qual è la base anche scientifica anatomica di questo noi pensiamo che il crociato vabbè è un legamento è un legamento di supporto di controllo dell'articolazione del ginocchio ma il sistema aminevole muscolare può sopperire tranquillamente se allenato a moro e non è che ti saluto il crociato e quel ginocchio è destinato a essere instabile eccetera perché allora così pensiamo solamente alle strutture statiche del nostro corpo tutta la parte dinamica tutta la parte di controllo progettivo di anticipazione muscolare di controllo muscolare lo veramente hanno certo che è più complicato però che cosa non ricorda ti faccio un esempio Mattia perché le persone capiscono di più vedendo quando uno pensa che senza legamento bruciato cosa posso fare si immaginano come se sono appesi al legamento e che se il legamento si stacca in questo caso non riesco esatto esatto ma se rompo il legamento l'elicottero cade giù a terra esatto ecco questo è quello che credono le persone questo è il legamento se si è staccato sono finito ok in realtà il legamento è come togliere un pezzettino poi in mezzo l'elicottero cade giù si rompe si strappa no hai solamente tolto un piccolo anello ma di una struttura che è molto più resistente è molto più compatta che è il tuo organismo ci sono muscoli davanti muscoli di dietro altri legamenti altri nervi altri vanni sanguigni altre fasce ma quanta roba abbiamo qua certo non andiamo a perdere di vista la visione olistica comunque dell'essere umano dell'organismo se non vogliamo andare sul filosofico non si può pensare che una struttura anatomica tra quanto importante ci condanni all'inattività o a dolore o a ristabilità eccetera metterò comunque i video adesso li guarderete qua nell'angolino Deschon Blair giocatore NBA San Antonio Spurs altri giocatori NFL fútbol americano senza legamenti riconosciuti nell'ambiente giornalistico nell'ambiente medico hanno fatto tutta la carriera serenamente non si sono neanche mai accorti di non averli i legamenti ok quindi questo era il punto numero 2 il terzo buon motivo il legamento crociato anteriore se lo dite o dite apriamo bene le orecchie può ricrescere o rigenerarsi 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 eh sì perché perché comunque il legamento è una struttura viva in un corpo vivo quindi se c'è la dovuta dovuto stimolo arriva sangue perché non dovrebbe è come una pianta no se tu recidi il ramo di una pianta quello con calma ricrescerà non c'è niente da fare non è che si perde l'iorrorazione solamente perché si è spezzato rimane lì in loco e naturalmente poi come ben sappiamo che secondo un legamento le fibre si rinnestano a seconda delle forze degli stimoli che gli andiamo a dare e quindi ancora più importante il punto 1 che ti ho detto fare fisioterapia vera in modo da indirizzare questa crescita questa rigenerazione delle fibre secondo le linee di forza adeguate anche qui è bello vedere le immagini che poi metterò no le persone pensano il legamento si è rotto è proprio come un filo che pum e invece si vede dalle immagini che appunto c'è tutta questa disomogeneità perché appunto le strutture i filamenti sono tutti sfilacciati ma sono tutti lì no che girano in questo liquido ma sono tutti un pochino vicini l'uno all'altro è chiaro che se io poi gli do degli stimoli si formano le cicatrici il legamento si rimette in linea e si riforma un legamento come prima eh? come? come succede quando ti tagli sulla pelle come tu stai quando ti rompi un osso ok? se hai riformato l'osso e ti romperà un legamento si riforma l'allegamento anche lì appunto non vogliamo nemmeno noi fare aneddotica qui è certo che dipende da tantissime circostanze per quello noi vorremmo una popolazione sempre sana e in forma perché se hai un esercizio fisico buono un'alimentazione corretta non fumi riposi bene naturalmente le cellule del tuo corpo tenderanno a rigenerarsi un po' meglio di quelle di chi invece magari è sovrappeso inattivo si fuma 10 pacchetti al giorno eh venga c'è no? bravissimo punto numero 4 è questo rai mi ha già citato un poco che appunto la terapia conservativa del crociato della rottura del crociato anteriore non ha effetti collaterali se non una terapia conservativa di per sé per definizione non ti può portare agli stessi effetti collaterali che invece può avere la chirurgia la chirurgia parlando di ciò quali sono perché ragazzi ogni volta che vai da un chirurgo no stai tranquillo andrà tutto bene io sono bravo tornerai in campo te lo garantisco tutto a posto poi dopo ce li mandano a fare l'abilitazione e la cicatrice si infiamma e la cicatrice si infetta e il ginocchio è sempre gonfio non si sgonfia più e qualcos'altro possiamo aggiungere si perde il range articolare non si piega più come prima e guarda che sono entrato ma c'è un almenisco che ho dovuto lavorare anche su quello ho sistemato quello e la cartilagine non è come quella allora ti ho dovuto fare anche quell'altra roba una terapia invasiva di per sé è una chirurgia che volete vi aprono si tagliano i tessuti si ricuciano eccetera è normale martellato è normale cambia degli effetti collaterali quindi se scegli di fare un approccio chirurgico gli effetti collaterali te li devi papà esatto qualche volta va tutto bene qualche volta eh perché la maggior parte delle volte ce ne sono un sacco gli effetti collaterali e devo dire che io per esperienza poi quando lavoro con le persone dopo ricostruzione perché poi ne vedo anche tante di quelle lo dico sempre stai tranquillo per i primi 3-6 mesi tu ti disturbi le cose sono la norma non esiste persona che dopo l'intervento stia bene subito non abbia gonfiore non abbia dolori non abbia infezioni non abbia rossori solo la norma prendi il tirito lo prendi per i prossimi 3-6 mesi che andrà così eh andiamo al numero 5 psicologia positiva che forse è l'aspetto più importante di questi quanti pazienti dopo che si rompono un crociato vengono operati per tutta la vita che possiamo stare qua a discutere quanto vogliamo di campioni che sono tornati a livelli e io ancora dovevo trovare uno di un campione che dopo la chirurgia del crociato è tornato a livello di prima no guarda mi viene in mente adesso Zlatan forse l'unico che si è rotto il crociato si è rotto il crociato quando giocava al Manchester City United due anni fa che poi infatti l'hanno tagliato ed è andato negli Stati Uniti adesso mi sembra è tornato uno ma lui infatti cioè posso dire che è l'esempio di di mentalità saluto comunque ciao ciao Zlatan perché ovviamente è venuto a chiedere la notte la notte lui mentre mentre tu facevi la teca era cristiana io lavoravo con Zlatan si era un esempio di un uomo professionalista un uomo e così esatto tanta roba lui un grande professionista certo però appunto c'è sempre quella sensazione di la paura l'instabilità quante volte infatti c'è una grossa correlazione anche tra operazione da un lato e rottura dell'altro che è molto particolare come cosa un po' ci dice adesso non andiamo a cercare cause scientifiche che non ce ne siano però possiamo un attimo astrarre un po' ci dice che evidentemente l'approccio è sbagliato perché se uno si è rotto un crociato dovremmo metterci il triplo dell'attenzione per evitare che sia un pancheraggio quindi probabilmente l'approccio che abbiamo il chirurgico meno alle volte perde di vista cose fondamentali l'altro appunto è che manca proprio la prevenzione a questo punto anche a livello psicologico come interveniamo su questi pazienti cosa stiamo facendo per aiutarli mentre invece con la terapia conservativa che vada a buon fine quindi fatta con tutti i crismi che vada bene puoi mettere l'effetto psicologico positivo che hai come dire cavolo avevo il crociato rotto ero ero listeato l'operazione adesso come è facile non posso più fare i cambi di direzione mi cede muoio e poi dopo sei nove mesi terapia conservativa magari sei anche rigenerato magari nel migliore dei casi o comunque è un ginocchio stabile forte la muscolatura ti funziona sei tornato a salutare sei tornato a cambiare di direzione e fado tutto te e tutto il tuo corpo e tutto la tua mente quanto è più più performante è proprio un cambio di mentalità ho visto tanta gente cambiare metodo di allenamento approccio allo sport dopo una cosa del genere io penso proprio appunto ai ragazzi e alle ragazze di 14 15 16 anni proprio a te genitore che sei lì e sei in dubbio ma vuoi mettere la differenza? cioè da ragazzo diventa uomo affronta un problema serio lo affronta personalmente lo cura personalmente lo supera con la volontà con gli esercizi con la palestra con le ripetute in campo da una parte dall'altra c'è ho rotto il crociato sono debole dovrò avere la chirurgia farò sei mesi un anno di rehabilitazione dopo un anno non sono sicuro se tornerò gli fai fare una delle fasi più difficili della vita di una persona non c'è dubbio di questo che l'adolescenza sia una delle fasi più difficili è la fase più difficile di una persona gli fai fare delle esperienze così negative che minano enormemente la sicurezza in se stesse minano enormemente la sicurezza in se stesse ok cioè fatto finito professionisti a altissimo livello non ritorno più come prima figurati un ragazzo o una ragazza di 14-15 anni l'hai distrutta l'hai distrutta non avrà più sicuro cioè a meno che io non sia un altro Zlatan ma non avrà più la sicurezza in se stessa non avrà più voglia di giocare con le amiche non avrà più la voglia di mettere la gamba dove c'è la palla finirà semplicemente per ogni tanto giocare a calcetto con gli amici stanno in porta con queste mente se non si rompe esatto con la paura ogni volta che no mi fa male cosa è successo chiamando sì sì migliori quindi penso che abbiamo dato dei buoni strumenti mettiamo gli studi in descrizione per appunto informare la popolazione che si trovi a dover affrontare questo problema in modo che prenda poi una scelta informata dopo averne parlato anche con il vostro ortopedico eccetera cerchiamo lì non prendere le informazioni che ci arrivano come anche le nostre perché è quello che siamo sempre aperti al dibattito ci mancherebbe altro voglio dire non prendiamo le informazioni che cercano dall'alto come un minimo di mentalità critica perché questa non è una scienza esatta purtroppo per fortuna non parliamo di fisica anche la fisica viene sempre messa in discussione quindi una mente aperta una mente critica più informazioni si hanno più punti di vista si hanno secondo me meglio si può affrontare a qualsiasi problema in special modo questo che è ancora molto controverso esatto esatto anche io vorrei chiudere con questa cosa detto questo se poi decidi di operarti se ti hanno operato o se ti opereranno può essere comunque la scelta giusta non c'è niente rimorso cioè ti hanno operato vabbè vuol dire che allora è la cosa giusta per te o hai fatto 3-5 mesi di fisioterapia non è andata bene allora devi operarti o niente di niente di male onesto 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 quindi diciamo che io dal punto di vista mio personale mi non pezzo un crociato adesso quello che farei o che per esempio tu vivresti il tuo figlio nel caso è approccio conservativo fatto bene con gente che non stia lì a perdere tempo ma che sappia cosa stia facendo esatto e dopo si valuta 3 si valuta 6 mesi se non si hanno avuto miglioramenti eccetera da quel punto si fa l'operazione una cosa molto importante di questo approccio è che se anche poi porta all'operazione l'aver svolto 3-6 mesi di esercizi ottimi ti porta ad accorciare drasticamente i tempi di recupero post operatori ma parliamo veramente di 3-4 mesi in meno di recupero funzionale e qua ci mettiamo il timbro scientificaly.com scientificaly.com provato scientificamente scientificamente provato bim bravo esatto esatto l'hai detto ed hai fatto bene perfetto ok quindi so che magari sei lì hai dei dubbi ancora voi volete avere magari anche la nostra consulenza chiedere il nostro parere non c'è problema scrivi pure nei commenti che noi rispondiamo a qualsiasi tuo dubbio se possiamo aiutarti molto molto volentieri se invece hai bisogno di una consulenza più privata approfondita o semplicemente ci vuoi iscrivere una mail fallo pure a infochiocciola almafisio.com almafisio curare e non trattare ciao